Ciao a tutti voi che mi seguite sul mio canale YouTube, un caro saluto al gruppo WhatsApp Planet Spray Art, qui sono di ritorno dal workshop che abbiamo tenuto in Italia e un saluto in particolare ad Erminio, Adriano e Nicolò che hanno partecipato. Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio